L'ordinanza emessa dal sindaco di Gela che impone a Caltacqua di distribuire l'acqua per usi domestici con le autobotti nelle zone del territorio comunale, attualmente non dotate di rete di distribuzione, prospetta una soluzione non confacente alla problematica in questione. Lo dice Caltacqua, gestore del servizio idrico integrato per la provincia di Caltanissetta, che in una nota puntualizza che il servizio di approvvigionamento idrico tramite autobotti non è contemplato tra gli obblighi stabiliti in capo al gestore richiamati dalla Convenzione di gestione del servizio idrico integrato. Quanto poi alla previsione della carta del servizio, è bene specificare, dice Caltacqua, che il ricorso alla distribuzione con autobotti può avvenire solo nei casi previsti da un apposito articolo che si occupa di interruzione del servizio. Nel caso specifico, sottolineo ancora la nota, non si tratta di interruzione in quanto nelle zone in questione non è ancora stata realizzata nemmeno l'infrastruttura di distribuzione. Un simile servizio, volto a soddisfare la legittima esigenza dell'utenza, in prossimità della stagione estiva con il conseguenziale aumento dei residenti stagionali, può essere previsto solo ed esclusivamente in forza di una specifica convenzione. Già il 15 aprile scorso Caltacqua ha provveduto a sottoporre al Sindaco di Gela una proposta di convenzione con puntuale disciplina di compiti, modalità operative e quant'altro indispensabile ad un buon funzionamento del servizio. La proposta di convenzione non ha sin qui avuto alcun riscontro dagli uffici comunali. L'obbligo immediato imposto a Caltacqua di provvedere al servizio di distribuzione con autobotti nelle zone non servite, con la previsione di una rivalsa del Comune sul gestore in caso di inadempimento, non potrebbe mai avvenire se non a condizione di violare la legge. Il servizio infatti va affidato a soggetti esterni e ciò richiede, secondo la normativa vigente sui contratti pubblici, il rispetto di un preciso iter e l'approvazione o ratifica da parte dell'autorità d'ambito in rispetto ai poteri alla stessa conferiti come richiamati alla Convenzione di gestione. Caltacqua, nella nota, ribadisce infine di avere già formalizzato una proposta al Sindaco per l'espletamento del servizio in questione e rimane in attesa di riscontro per poter risolvere il problema degli abitanti di quelle zone.